buonasera a tutti siamo qui per il secondo incontro della serie i libri del centro ama abbiamo cominciato questa serie il mese scorso presentando il volume di inaudi il sapere mitico e oggi invece sarà il turno del libro di mario lentano straniero pubblicato dalla casa editrice in in scibolet possiamo già anticipare alcuni dei prossimi interventi cioè delle prossime discussioni intorno a a due libri del centro il primo sarà il 24 di marzo poi manderemo naturalmente degli avvisi pubblicheremo delle locandine come abbiamo fatto in questo caso per il volume di donatella puliga sulla passeggiata mentre nel mese d'aprile invece il libro in questione sarà il libro mondo di ferro del professor Marco Bettalli e quindi si arriverà ai primi d'aprile e poi via via seguiranno altri interventi e altre altre discussioni vedo che qualcuno già ci sta seguendo è un pubblico di una trentina di persone su su youtube e qualcuno appunto che ci segue e a questo punto prima di cominciare con con le domande al professor lentano domande alle quali naturalmente invito sia quelli che sono presenti qui tra noi ma anche le persone che ci seguono su youtube che possono fare le loro domande eh nella nella chat eh cedo il microfono a Tommaso Braccini che invece ci dirà qualcosa di più sul libro in questione grazie grazie Simone grazie Simone e sono appunto molto molto felice di riprendere in mano questo libro che devo dire insomma da sempre delle soddisfazioni ogni volta che che lo sfoglio e però ecco vorrei vorrei esordire magari in maniera apparentemente un po' rituale proprio a riflettere sul sull'esterno del libro per notare come eh nella quarta di copertina eh ci sia scritto le parole degli antichi uno perché appunto il libro di cui parliamo stasera è straniero di Mario Lentano ma allo stesso tempo questo libro è eh come dire è la nave ammiraglia di una collana eh per così dire è il primo volume la prima uscita di una collana che è stata per l'appunto eh concepita pensata da Mario Lentano qui presente e che si chiama le parole degli antichi ecco mi sento meglio anch'io soprattutto diciamo eh effettivamente e quindi ecco benissimo eh è il primo volume di una collana appunto che è stata concepita e varata da da Mario Lentano che è intitolata per l'appunto le parole le parole degli antichi e appunto in questo caso la parola che viene utilizzata e viene trattata all'interno di questo volume è proprio eh straniero ecco ecco allora vorrei prima di tutto mh chiedere a Mario magari se ci vuol dire due parole su questa collana eh sulla su gli elementi che l'hanno portato a concepirla e anche eventualmente su eh le prossime uscite insomma che eh sono attese. allora grazie eh intanto buonasera eh a tutte e a tutti i presenti eh le studentesse e gli studenti i colleghi compresi i colleghi modernisti che insomma magari eh si troveranno in un in un ambito di discorso che non è quello che è il loro più familiare o congeniale e che quindi sono qui per amicizia e per curiosità e dunque mh meritano eh ancora di più di essere ringraziati per questo. e grazie naturalmente anche a tutti coloro che seguono da casa. Allora brevissimamente su questa domanda molto affettuosa eh di Tommaso Braccini perché non non vorremmo dare l'impressione che siamo qui a fare i piazzisti di noi stessi insomma a promuovere eh commercialmente i nostri libri. e questa è una piccola collana di un piccolo ma agguerrito editore romano in scivoletta appunto animata da due nostri colleghi giovani colleghi dell'Università di Sassari e l'idea era quella di selezionare delle parole che fossero particolarmente significative delle culture antiche greca e romana ma che si prestassero anche ad una declinazione in chiave contemporanea. eh più volte abbiamo avuto occasione in varie sedi di dire che noi non amiamo particolarmente l'attualizzazione che spesso è un modo per stuprare i testi antichi piegandoli al servizio di progetti discorsivi o culturali che con gli antichi non hanno niente a che fare. si tratta però di capire come certi temi, certe questioni attraversino trasversalmente la storia della nostra cultura e dunque selezionare dei termini che da questo punto di vista si prestino particolarmente ad una indagine che rimane centrata sul mondo antico. ma che poi appunto nella parte solitamente terminale del libro si presta anche a essere seguita nelle sue riprese, nei suoi sviluppi, nelle sue torsioni insomma contemporanee e questo impone una selezione naturalmente dei termini peraltro abbastanza generosa. i volumi eh che sono usciti finora sono soltanto due a questo che presentiamo stasera e seguito uno splendido volume folklore eh scritto da Tommaso Braccini però possiamo anticipare a chi non lo sapesse che è in in corso di avanzata elaborazione dovrebbe andare in stampa nelle prossime settimane. il terzo volume della collana democrazia meravigliosamente scritto da eh Stefano Ferrucci ehm che che insomma ehm è uno specialista di questo tema e ci sono altri volumi in preparazione il numero quattro sarà Utopia scritto da Michele Napolitano nostro collega dell'Università di Cassino seguirà Corpo scritto da Anna Maria Urso che è una specialista di storia della medicina antica insieme all'Università di Messina e poi Frontiere scritto da un altro specialista di questo tema Gianluca De Sanctis che molti di voi avranno letto sentito ascoltato perché è comunque un prodotto diciamo del Centro A ma anche se purtroppo non non siamo riusciti a a farlo venire qua eh a a svolgere il il suo mestiere di di ricercatore e poi ce ne sono ancora altri ma insomma diciamo queste sono sono le prossime uscite. L'idea è quella di libri che si rivolgono ad un pubblico vasto quindi non niente di eccessivamente specialistico eh bibliografia alla fine niente note a piedi pagina una scrittura per quanto possibile narrativa come oggi si usa dire ma che non rinunci per questo alla serietà scientifica eh che però insomma è il presupposto del libro ma in qualche modo viene dissimulata nel libro stesso almeno nelle pagine insomma vera e propri destinate alla lettura perché eh si cerca di eh si cerca di intercettare appunto gli interessi di quello che una volta si chiamava il pubblico colto della cui esistenza è lecito forse dubitare oggi ma insomma mh cerchiamo di prefigurarlo attraverso attraverso eh libri come questi. del resto eh hai detto tu no? Che utopia sarà uno dei prossimi volumi quindi insomma tutto sommato anche questa speranza eh la inseriamo all'interno di questa eh casella. ehm i titoli dei dei libri che Mario Lentano ha ricordato rientrano eh un po' nel in quelle categorie eh che abbiamo anche discusso nel volume il sapere mitico non è stato un caso aver eh iniziato diciamo questa serie di presentazioni con quel con quel libro non solo perché quel libro rappresenta un un lavoro collettivo che ha impegnato eh tutti noi del centro AMA ma anche eh tutti i colleghi che sono passati per il centro AMA durante l'università durante il dottorato di ricerca durante anche altre eh fasi successive ma proprio perché riteniamo che quegli argomenti rimangano un 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 tema comune un tema da eh da affrontare in eh in in questi diciamo in queste in queste chiacchierate. in fondo eh straniero che è l'argomento eh di oggi eh rientra in eh una delle sezioni del volume il sapere mitico che era l'identità e la collettività cioè il rapporto tra l'individuo singolo e il gruppo di cui eh faceva parte o non faceva parte come appunto nel caso della parola parola straniero. parola straniero che è in in greco come sapete è espressa con un termine che era abbastanza ambiguo nel senso che era un termine che voleva dire una cosa ma anche il suo il suo eh il suo contrario. eh l'idea di questi incontri eh è quella di eh approfittare della presenza dell'autore per porgli delle domande. quindi eh non vorremmo eh chiacchierare troppo a lungo e quindi la richiesta che io faccio sia a chi è presente qui eh al San Nicolò e anche chi ci sta seguendo attraverso YouTube se ha eh piacere di eh rivolgere una domanda a Mario Lentano sul tema dello straniero. cioè chi era lo straniero eh cosa voleva dire essere straniero in Grecia oppure a Roma straniero rispetto a che cosa? C'è qualcuno che vuole fare una domanda su questo tema a Mario Lentano gli cedo volentieri il microfono oppure se appunto eh vuole fare una domanda attraverso eh YouTube naturalmente io volentieri eh ripeto la domanda a Mario. Va bene? D'accordo. Allora magari eh per eh aiutarvi eh una breve presentazione del libro per capire quali sono gli argomenti che vi vengono affrontati. Sì ehm per l'appunto tra l'altro il libro parte proprio sostanzialmente si enuclea su una serie di ovviamente insomma di tematiche però parte proprio con le parole ovviamente quindi le parole degli antichi ma la prima parte riguarda proprio le parole e all'inizio si riflette anche riflette anche scusate proprio sul eh sul termine greco per indicare per indicare lo straniero eh tra l'altro insomma è noto anche al pubblico italiano il termine xenos è soprattutto nel poco simpatico composto xenofobia eh c'è da dire poi in greco c'era anche il molto più simpatico composto filoxenia che eh magari per noi è molto meno battuto purtroppo insomma però eh effettivamente c'è eh chiaramente insomma e va ehm e va anche ricordato e eh per l'appunto quindi sono sono le parole all'inizio sulle quali sulle quali si riflette ecco anch'io mi riallaccerei però ehm sempre sempre per parlare di parole eh tra l'altro ehm ha un altro termine che Mario Lentano analizza in questo libro nel suo straniero e che è ricollegato a guarda caso a un'altra delle parole degli antichi alla democrazia eh perché eh per l'appunto la questione di di eh dello straniero di chi è lo straniero è legata a quella di chi siamo noi quella di chi è la persona o il gruppo eh che individua diciamo lo straniero eh da sé rispetto a sé e proprio riflettendo sulla democrazia sulla parola democrazia eh ovviamente il pensiero corre ad Atene naturalmente ma Mario Lentano dimostra riflettendo sulla sulla terminologia che riguarda lo straniero e il non straniero come ad Atene in realtà democrazia fosse una parola e un concetto che andavano di pari passo con un altro elemento che era quello dell'autoctonia che eh noi sentiamo molto meno menzionare ma che eh era indissolubile diciamo ad Atene anche proprio rispetto rispetto alla democrazia eh autoctonia che in realtà è molto esclusivo eh diciamo come come concetto è molto poco accogliente ecco magari appunto intanto che aspettiamo che il nostro pubblico si scaldi e eh scriva qualche domanda o magari ce la ponga in diretta magari ecco se eh Mario ci volevi parlare un attimo proprio di questo cioè del concetto di autoctonia eh in che senso poi l'hai messo in luce anche in questo in questo libro di straniero e anche in che senso è legato alla democrazia o era legato alla democrazia? Beh allora intanto eh è molto difficile parlare di un argomento di questo genere di fronte a eh colleghi e amici che lo hanno ampiamente studiato e dai quali io ho imparato tutto quello che so su questo argomento quindi mi perdoneranno insomma eh Marco Bettali, Stefano Ferrucci e altri se se eh saccheggerò insomma le cose cose che loro molto meglio di me potrebbero dire eh intanto appunto ehm partire dalle parole mi sembra una cosa importante eh è una cosa che non ci siamo mai stancati di ripetere in tutte le occasioni ma eh appunto visto che lo abbiamo ripetuto in tutte le occasioni ripetiamolo anche in questo eh le parole sono importanti non è semplicemente una frase celebre di un film altrettanto celebre di di ehm di Nanni Moretti ecco eh ma è anche una nostra profonda convinzione non si può fare un'antropologia del mondo antico senza una filologia del mondo antico quindi senza studiare le parole che gli antichi ci hanno lasciato se non altro perché è l'unica cosa che abbiamo di loro insomma eh il mondo antico è per noi innanzitutto un gigantesco bacino testuale poi ci sono anche tutta una serie di altri strumenti e canali attraverso i quali il mondo antico parla a noi ci sono una serie di resti materiali e archeologici e così via eh che ovviamente contribuiscono in misura decisiva eh e talora anzi suppliscono eh l'assenza delle parole eh perché ci danno informazioni eh su realtà geografiche culturali e così via che non si sono espresse o si sono espresse molto meno di Atene per esempio di Roma attraverso le parole e allora però eh insomma la fonte fondamentale il bacino al quale noi attingiamo in primo luogo per studiare il mondo antico sono i testi che questo mondo ci ha lasciato e dunque le parole eh perciò eh esaminare le parole attraverso le quali si eh costruisce un lessico dell'alterità eh nel mondo greco e nel mondo romano è fondamentale perché le parole non sono evidentemente soltanto degli strumenti espressivi sono eh degli oggetti culturali sono cariche già eh di tutta una elaborazione che in qualche modo è incapsulata nella parola stessa il modo in cui la parola funziona gli antichi per esempio sono perfettamente consapevoli non c'è stato bisogno di aspettare i moderni per sapere eh del fatto che barbaros eh era una parola di carattere onomatopeico che riproduceva a un modo eh duro e aspro dice Strabone di parlare eh di di pronunciare insomma i suoni e e dunque è chiaro che un termine di questo genere non è semplicemente denotativo ma è connotativo esprime una valutazione un giudizio eh di carattere derogatorio in questo caso nei confronti nei confronti dell'altro ora tornando alla questione che veniva posta prima eh il caso di Atene è un caso particolarmente emblematico perché Atene eh realizza in una certa fase della sua storia il massimo della parificazione interna dei cittadini e il massimo della esclusione di chi è fuori da questo club privilegiato perché come appunto eh Marco Bettalli ci ha insegnato la nozione di autoctonia è in fondo una nozione che mira a restituire ai cittadini ateniesi una nobiltà che è più forte della nobiltà rivendicata dai gene aristocratici eh i quali appunto giustificavano il loro ruolo di privilegio proprio con l'antichità e la nobiltà delle loro stirpi di appartenenza qui in qualche modo c'è uno scavalcamento eh all'indietro perché eh viene rivendicata quella che eh Aristotele dice è la più alta forma di nobiltà che una città possa o un popolo possa rivendicare il fatto di essere nato dalla terra stessa eh e quindi di avere sempre abitato in un certo luogo di non essersi mai mescolato con altri popoli e di non aver mai dovuto cacciare qualcuno dalla terra in cui abita perché appunto quella terra è sempre stata la sua e c'è una ricchissima eh tradizione testuale nel mondo ateniese di tardo quinto e eh di quarto secolo avanti Cristo su questo argomento eh gli epitafi eh il logos epitafios i discorsi che venivano pronunciati per i caduti nelle diverse guerre sono uno dei luoghi canonici in cui si eh ripropone questo tipo di modello e l'idea è quella che noi ateniesi siamo più nobili di tutti gli altri greci perché siamo gli unici a poter rivendicare come nostra matrice la terra stessa dell'attica e ora non mi ricordo chi se lo pseudolisia o lo pseudoiperidio o qualcun altro diceva mentre tutti gli altri eh quando usano espressioni come madre terra o terra patria utilizzano delle metafore cioè si esprimono attraverso locuzioni che però vanno intese in senso metaforico soltanto noi ateniesi usiamo queste espressioni in senso proprio perché quando noi diciamo che quella terra è madre non intendiamo dire che è come se fosse madre no è madre realmente la terra dell'attica è concepita come una specie di gigantesco utero eh dal quale sono spuntati come spunterebbero gli steli di una pianta eh i più antichi re dell'attica e dunque in qualche modo idealmente tutti gli ateniesi che sono venuti dopo di loro ora però tutto questo ha una conseguenza non non indesiderata per chi ha concepito evidentemente questo tipo di modello forse ai nostri occhi piuttosto sgradevole e cioè il fatto che dunque eh se l'autotonia è la caratteristica dei cittadini ateniesi i cittadini ateniesi si possono essere non si può diventare eh perché non tu non puoi acquisire una madre in corso d'opera la madre è quella dalla quale sei nato o sei nato da quella madre oppure basta eh è andata così insomma eh e e infatti eh la cultura ateniese a partire dalla metà del quinto secolo avanti Cristo in poi in particolare non soltanto restringe e perimetra in maniera molto rigida i criteri di ammissione alla cittadinanza ma è anche estremamente cauta e parca nel concedere la cittadinanza ad altri in questo peraltro il caso ateniese è soltanto il più noto ma non è l'unico io mi diverto spesso a citare un passo poco noto eh forse eh che si trova nel De Beneficis di Seneca eh nel quale eh Seneca racconta che in un certo momento gli abitanti di Corinto eh mandano una loro delegazione da Alessandro il Macedone eh e gli dicono ti abbiamo fatto un grande onore ah e qual è questo grande onore chiede Alessandro beh ti nominiamo cittadino di Corinto anche Alessandro insomma rimane lì un po' eh così insomma forse non eh eh gli ambasciatori corinzi si rendono conto del fatto che il loro interlocutore non sembra aver colto la la insomma l'onore che gli viene attribuito e gli dicono beh ma prima di te l'abbiamo concessa solo a Eracle quindi tu sei il secondo dopo il massimo degli eroi greci e allora questo insomma è una vicenda che sta a testimoniare come al di là del caso eclatante e canonico di Atene ha in generale nel mondo greco o almeno anche in altre realtà del mondo greco la cittadinanza è un privilegio che viene concesso con estrema parsimonia. Da questo punto di vista il caso di Roma senza ora che gli amici grecisti mi accusino di voler attribuire patenti di maggiore o minore nobiltà sono strategie diverse attraverso le quali si gestisce evidentemente un un impero e non sta a noi stabilire quale sia la migliore. Il mondo romano da questo punto di vista funziona in maniera completamente diversa come insomma spiegava Maurizio Bettini in un suo saggio particolarmente efficace da questo punto di vista se nel mondo atenese è la terra che fa gli uomini perché sono gli uomini che è la terra che li produce li genera dal proprio seno a Roma sono gli uomini che fanno la terra e il riferimento è a una pagina bellissima capitolo undici mi pare della vita di Romolo di Plutarco nel quale si spiega come alle origini di Roma quando Romolo si trova lì insieme con i suoi compagni che sono stati chiamati a partecipare all'atto fondativo viene scavata una grande fossa in questa fossa prima vengono gettate una serie di primizie che appartengono al mondo naturale che devono auspicare per la città un futuro prospero ricco e così via ma poi ognuno dei partecipanti al momento della fondazione getta una zolla della terra dalla quale proviene e poi queste zolle vengono mescolate insieme su megnumi appunto il verbo usato da Plutarco e quella è la terra sulla quale si edificherà Roma e allora lì si vede bene come lo stesso motivo il motivo della mescolanza insieme con il motivo della terra venga riarticolato in maniera completamente diversa dalla cultura romana e naturalmente questi miti diciamo delle origini, questi miti di fondazione non rimangono dei costrutti culturali inerti non stanno lì semplicemente ad avbellire qualche orazione funebre o qualche libro di mitografia ma servono anche a tracciare una linea sulla quale si muovono poi concretamente le esperienze storiche delle città che li fanno propri non so se mi sono dilungato direi di no, noi siamo qua per ascoltare te quindi fondamentalmente non c'è assolutamente nessun problema anzi, grazie c'è qualcuno allora che vuole fare una domanda? Carlo Caruso, volentieri c'è una curiosità personale che mi è sempre colpito dalla prima volta che ho preso in mano quel libro cioè Dicta e fatta memorabilia di Valerio Massimo organizzato con interni ed esterni ecco, semplicemente questo che tipo di, se una cosa unica nel mondo antico o insomma rara certo ho una fortuna sensazionale poi in età moderna essendo io modernista come riconoscimento di certe virtù che esistono anche al di fuori del proprio ambito ristretto ecco, in genere viene utilizzato così penso al cortegiano di Castiglione ecco dove Valerio Massimo è chiaramente una delle più che una fonte, un modello quasi di rappresentazione dei vari casi esemplari che gli capitano sotto mano ecco grazie, grazie mille Carlo allora, quello di Valerio Massimo è il caso più noto perché noi abbiamo quasi l'integrale della sua opera però per esempio sappiamo che anche la raccolta di biografie di Cornelio Nepote era organizzata in questo modo anzi, per uno strano caso della sorte noi abbiamo l'unica parte di questa amplissima opera geografica che si è conservata è quella relativa ai Duce Sexterarum Gentium quindi noi abbiamo le biografie dei grandi generali stranieri prevalentemente greci ma anche c'è anche Annibale per esempio quindi anche di culture strane diciamo così al condominio greco-romano il che è molto in linea con quello che Cornelio Nepote dice nella prefazione di questa sezione della sua opera che per fortuna si è conservata insieme con l'opera stessa perché è sicuramente dal mio punto di vista la pagina più intelligente che Cornelio Nepote abbia mai scritto tant'è vero che io la utilizzo come sanno quelli che li hanno seguiti nei miei corsi di didattica del latino così per la prima lezione perché lì Cornelio Nepote dice io spiega insomma in qualche modo quello che noi chiameremmo relativismo culturale dice io so che i miei lettori si stupiranno nel vedere eh menzionato a proposito di Epaminonda per esempio eh chi sia stato il suo maestro di musica oppure leggere eh che sapeva danzare eh commode eh insomma in maniera in maniera insomma adeguata misurata eccetera eccetera ma quelli che dicono questo quelli che eventualmente dovessero fare un'obiezione di questo genere sono gli expertes literarum grecarum cioè è gente che non conosce la cultura degli altri ed è portata a pensare continua Cornelio Nepote che sia rectum soltanto quello che si conforma ai suoi mores e questo vuol dire che la cultura romana insomma direi coerentemente con le premesse che dicevamo prima è una cultura che è pronta a riconoscere l'eccellenza diciamo così visto che si tratta di vite di uomini illustri eh anche al di fuori del suo perimetro certo in Valerio Massimo i casi provenienti dal mondo romano superano di gran lunga dal punto di vista quantitativo quelli delle genti straniere ma è una differenza quantitativa non qualitativa perché le vicende di virtù di valore e così via che vengono tratte da storie del mondo greco ma anche esterne al mondo greco non mi pare che siano oggetto ecco non direi che siano oggetto di un trattamento differenziale se non appunto in termini puramente numerici ma già Livio aveva detto io non conosco nessuna città che sia più ricca di buona exempla quanto Roma e questo insomma concediamo ai romani di pensarlo altri interrogativi altre domande Eleonora grazie mille professore solo una curiosità appunto visto che aveva menzionato appunto il Barbaro in greco allora c'è un passo di Strabone che mi sembra che sia nel libro 14 in cui Strabone critica il modo in cui Apollo d'oro ha trattato Eforo perché Eforo dice che ci sono vari popoli nel mondo ci sono gli Ellenes i Barbaro i Migades e secondo questo secondo Apollo d'oro va bene fa semplicemente riporta la lista di Eforo mentre Strabone dice questo non è possibile perché o ci sono gli Ellenes oppure ci sono i Barbaro i Migades Gene non esistono perché se sono i Migades Gene o sono più Barbari o sono più Greci quindi secondo Strabone l'atteggiamento di Eforo e Apollo d'oro è quasi incomprensibile e niente volevo sapere se siccome sono trovata a occuparmi un po' di questo passo volevo sapere se lei aveva incontrato questa diciamo problematica dei Migades Gene in Eforo Apollo d'oro e Strabone grazie allora grazie no il libro non si è occupato anche di queste questioni diciamo così perché per ovvie ragioni in un testo di questo genere sia per dimensioni del testo sia per destinazione si sono dovute fare delle scelte e quindi tutta una serie di cose sono evidentemente rimaste fuori però insomma lei ha fatto molto bene a tirare in ballo il nome di Strabone e il quattordicesimo libro della geografia perché effettivamente Strabone è uno di quelli che fanno le riflessioni più interessanti a proposito a proposito di questo termine e soprattutto a proposito del termine barbaro voglio dire soprattutto perché Strabone mostra di avere consapevolezza del carattere puramente convenzionale diciamo così di questa distinzione che è una questione di punti di vista c'è un passo bellissimo facciamo un passo indietro c'è un passo bellissimo in Erodoto Erodoto come mi insegna l'amico Stefano Ferrucci è un autore che si può aprire a casaccio leggere la prima pagina che capita e si trova sempre qualche cosa di meraviglioso ora in un passo in cui sta parlando degli egizi Erodoto lascia cadere come se fosse una cosa ovvia una frase di un rigo e mezzo l'affermazione che gli egizi considerano barbari quelli che non parlano la loro lingua e finisce lì ma questa questa pagina è strepitosa se facciamo se ci pensiamo un attimo perché sostanzialmente Erodoto sta dicendo che basta semplicemente dislocare diversamente il punto di vista e i barbari cambiano cioè sono insomma si è sempre i barbari di qualcun altro ecco c'era una famosa frase di Luciano De Crescenzo che diceva si è sempre i meridionali di qualcuno si è sempre i barbari di qualcun altro basta semplicemente decidere da quale punto di vista ci vogliamo porre e con questa breve frase appunto di un rigo e mezzo Erodoto demolisce o almeno insomma pone le premesse perché sia demolita poi magari lui stesso la fa propria questa distinzione fra Greci e i barbari sin dal proemio della sua opera è d'accordo però in qualche modo una frase di questo genere demolisce qualsiasi idea di una oggettività di questa distinzione e sottolinea come essa sia semplicemente frutto dello sguardo di chi la adotta ora Strabone fa qualche cosa di simile nel passo che ho in mente che credo sia appunto proveniente dal libro che lei menzionava perché lui dice che in realtà anche noi greci quando proviamo a parlare le lingue degli altri diamo la stessa impressione di parlarli in maniera aspre e dura e dunque allora che cosa significa e dice espressamente non è una questione di apparato fonatorio non è che i barbari hanno la laringe o la trachea che sono fatte diversamente non è neanche un fatto di è semplicemente una questione di consuetudine appunto e questo insomma è un punto di mi pare di grandissimo rilievo perché appunto sottolinea una volta di più come la distinzione convenzionale e fatta propria senza sostanziali davvero tentativi di metterla in crisi insomma c'era stato forse il tentativo di Alessandro con la questione della grande fusione tra Macelli Greco-Macedoni e Persiani però ecco i matrimoni misti forse quello era un tentativo che probabilmente non a caso viene messo in campo da una crescità periferica diciamo di superare questa distinzione ma è un tentativo che non a caso viene abbandonato immediatamente dopo la morte di Alessandro anzi una delle interpretazioni dietrologiche se mi passate questo termine della morte di Alessandro è che Alessandro fosse morto per un veleno che era stato confezionato e fatto arrivare in Mesopotamia insomma da Aristotele suo antico maestro e che Aristotele aveva deciso di avvelenare il suo pupillo esattamente per quello perché aveva degenerato dai suoi insegnamenti Aristotele gli avrebbe detto tratta i greci come greci e i barbari come barbari lui avrebbe derogato da questo insegnamento e allora Aristotele avrebbe fatto arrivare questo veleno per ucciderlo non sarà andata così e comunque non lo sapremo mai ma è interessante che si sia potuta creare questa tradizione segno del fatto che evidentemente si trattava di una fuga in avanti che neppure i suoi stessi il suo stesso più stretto entourage era disposto era disposto a tollerare colgo un attimo la palla al balzo proprio perché riflettendo su questo ovvero su questo passo di Rodot in cui si capisce che il concetto di Barbero è relativo insomma mi è richiamato uno uno dei tanti passi bellissimi che ci sono in questo libro che riguarda Ovidio perché Ovidio quando un poveretto viene relegato nella lontana Tomi si rende conto a un certo punto lo ammette e lì il Barbero è lui e in effetti devo dire insomma questa riflessione appunto è anche in questo caso illuminante quindi insomma da questo punto di vista veramente fa vedere quanto possa essere mutevole il concetto di Barbero Sì grazie grazie Tommaso grazie anche per aver riportato l'attenzione sul mondo romano perché ahimè io sono un latinista e quindi fatalmente insomma il campo in cui mi muovo meglio è quello della cultura romana e l'esperienza dell'esilio cosa? l'esperienza dell'esilio è un'esperienza fortemente sradicante lo è evidentemente in tutti i tempi in tutte le culture ma insomma doveva essere percepita come particolarmente frustrante per qualcuno che era tradizionalmente abituato a sentirsi il portatore di una cultura e di una civiltà superiori Ovidio sperimenta fino in fondo questa questa situazione sperimenta appunto la situazione nella quale è lui a essere il barbaro di qualcun altro è lui a essere quello che balbetta una lingua incomprensibile peraltro è anche interessante il fatto che Ovidio dichiara di aver imparato il getico e addirittura di aver scritto un'opera in questa lingua tanto è vero che i rumeni ancora oggi evocano questo evento primordiale considerando questo poemetto ovviamente perduto se mai pure è stato scritto ma ovviamente perduto come la prima opera della loro letteratura che insomma e dunque questo insomma mi sembrerebbe anche un segno di apertura culturale magari fatto per necessità certo ma la necessità era quella di imparare la lingua per chiedere da mangiare o da bere non per scriverci un poema averci scritto un'opera letteraria nel getico se mai Ovidio l'ha fatto comunque dice di averlo fatto segno che evidentemente la cosa si poteva dire senza scandalo diciamo senza apparire bislacca è interessante perché vuol dire che in qualche modo si è disposti anche a imparare le lingue di quelli che fino ad un attimo prima si sarebbero considerati e che Ovidio stesso descrive come selvaggi insomma e dei quali però si preoccupa di acquisire uno strumento che gli consente di entrare in comunicazione con loro Ovidio comunque non aveva difficoltà a scrivere quindi insomma si trattava semplicemente di impratichirsi un po' eh lo so vabbè ma sai tutti quegli anni passati lì insomma era anche il tempo ce l'ha avuto eh la nostra allieva Laura Bevilacqua da Chicago ci pone una domanda eh chiede al professor Lentano se può fare qualche considerazione sull'imparare dallo straniero in particolare rispetto all'iniziativa nei confronti dei docenti che si trasferivano a Roma per insegnare e magari si rompevano una gamba come era successo al povero cratete di Mallo allora ciao Laura grazie di essere qui innanzitutto e grazie di essere intervenuta con questa domanda allora eh imparare dagli stranieri Alien Wisdom il famoso insomma libro di di eh di Momigliano sull'atteggiamento dei greci nei confronti degli altri esiste questo anche nel mondo romano allora c'è un passaggio nel capitolo 1-8 di Livio che mi è sempre sembrato estremamente interessante grazie Andrea ciao estremamente interessante perché lì Livio sta dicendo sta raccontando questa cosa lui dice eh quando Romolo diviene fonda Roma e e deve in qualche modo anche eh dotarsi di segni esteriori del suo ruolo di re della città che cosa fa? eh usa la sella curule eh si circonda di dodici lettori eh insomma si dota di una serie di insignia avrebbero detto i latini che servono a sottolineare il suo statuto privilegiato e dominante all'interno della città benissimo dopodiché Livio dice ci sono quelli secondo i quali eh i dodici lettori ricordano i dodici avvoltoi che Romolo aveva visto al momento della presa eh degli auspici eh e che gli avevano consentito di vincere la contesa nei confronti del fratello molti dicono questo io dice Livio non sono invece alieno dal dare ragione a quelli che pensano che questo elemento provenisse dalla cultura etrusca perché gli etruschi avevano la consuetudine di creare delle confederazioni di dodici città le dode capoli famose che si trovano in tutti i manuali di storia e quindi nelle quali alle cui riunioni plenarie ognuna delle città partecipava con un littore del resto noi dagli etruschi abbiamo preso anche la curule la toga pretesta eccetera eccetera e quindi allora qui si vede bene come anche nella cultura romana c'erano evidentemente posizioni variabili c'erano posizioni un po' più autarchiche chi diceva che i dodici littori di Roma lo derivavano dai dodici avvoltoi in qualche modo era il sostenitore di un'idea secondo la quale Roma non doveva niente a nessuno insomma ce le siamo fatte tra noi le cose e tutto deriva dalla nostra storia interna Livio che spesso viene considerato un ottuso nazionalista e che invece è uno storico molto più intelligente di come spesso lo si dipinge e in questo invece era molto più aperto perché dice no secondo me questa cosa l'abbiamo presa dagli etruschi perché insomma i romani in generale non sono affatto alieni dal riconoscere i debiti che hanno nei confronti delle altre culture magari poi come capita Cicerone dicono che quando noi abbiamo preso qualcosa dagli altri lo abbiamo sempre reso migliore di quanto non fosse in origine e va bene allora ecco abbiamo di nuovo il il microfono passiamo la parola al professor Bettini grazie sì io volevo provare ad aprire un altro fronte cioè normalmente noi quando parliamo di straniero sia antico che moderno utilizziamo una dicotomia noi e loro esistiamo noi autofroni che siamo dentro una certa comunità poi sono loro gli altri e viceversa come tu hai mostrato prima sono anche gli altri che dicono noi e dicono loro a noi e mi ricordo di aver letto in alcuni scritti giovanili di Claude Lévi-Strauss che sono stati raccolti in un volume molto bello che si chiama Antropologie Structural Zero e hanno fatto non so se l'abbiamo in biblioteca se non l'abbiamo io esorterei a comprare sono molto belli lui c'è un paio di saggi sui suoi amati in Ambikvara quelli che lui ha studiato e dice in realtà in Ambikvara hanno alcune comunità che considerano semplicemente non uomini non li considerano uomini quindi quelli non sono stranieri non sono nemmeno presi in considerazione questo poi si lega a altre cose che Lévi-Strauss nota lungo il cammino dei suoi studi per esempio il fatto che molte popolazioni portano il nome di uovi di pidocchi penneri pescecane serpenti eccetera perché gli viene negata semplicemente l'umanità perché fa pensare a noi i classicisti ai peucezzi che potrebbero essere i pidocchi i mirmidoni le formiche cioè in pratica un meccanismo per cui una comunità alcuni li riconosce stranieri e altri non li riconosce uomini ti chiedevo ti viene in mente qualche caso nel mondo greco o romano in cui ci sono delle comunità che semplicemente neanche bene considerate stranieri non gli viene riconosciuto l'umanità questo sarebbe interessante da ora a me vengono in mente i trogloduitai che potrebbero rassomigliare un po' a questo però probabilmente pensandoci ce ne verrebbero in mente grazie maurizio allora d'amblè no no non mi viene in mente niente di o almeno insomma ce l'hai tu Tommaso ce l'hai tu mi dila tu tanto questo è un menaggio i scinocefali che i scinocefali sì sì dell'India o dell'Etiopia che anche lì si discute ma in qualche caso erano sicuramente dei babbuini ma in altri erano delle popolazioni che venivano assimilate però a babbuini sì sì i scinocefali del romanzo d'Alessandro in qualche caso si vede che sono proprio uomini però a quale è negato lo status umano ma sì se prendiamo appunto c'è la pagina di Plinio il Vecchio in cui si parla dei popoli dei margini del mondo diciamo sì ce n'è ce n'è tanti dagli sciapodi agli astomi insomma tra l'altro ci sono popoli che si nutrono soltanto per esempio di profumi di odori il che insomma mi ha sempre suscitato l'idea che però in qualche modo poi questo estremo del selvaggio si incontra anche con il divino perché anche gli dei si nutrono in qualche modo di un cibo immateriale come può essere il fumo che si leva dai sacrifici e così via quindi però in compenso la tua osservazione mi faceva venire in mente il fatto che nella cultura romana non tutti i nemici sono ugualmente nemici e questo insomma emerge anche dai testi giuridici ci sono un paio di passi in quel gigantesco calderone in cui confluisce confluiscono secoli di riflessione giurisprudenziale romana che è il digesto ci sono un paio di passi in cui si dice non è che tutti quelli con cui noi combattiamo sono hostes la qualifica di hostes viene riconosciuta soltanto a qualcuno a cui la guerra è stata pubblicamente dichiarata o che l'ha pubblicamente dichiarata a noi seguendo un certo protocollo una certa insomma serie di procedure e così via il che fa vedere che l'originaria l'antichissima valenza di hostes come qualcuno che è pari iure con popolo romano insomma questa definizione antichissima della parola hostes che viene di solito citata nelle fonti per dire che un tempo era così ma che poi hostes ha assunto il significato di nemico e che è peregrinus che ha preso il significato di hostes beh insomma in qualche modo continuava a sopravvivere perché in questa idea secondo cui l'hostes è soltanto niente questa idea secondo la quale è hostes soltanto colui al quale noi abbiamo dichiarato pubblicamente e secondo tutte le norme guerra o che l'ha dichiarata a noi solo questo è hostes in qualche modo suggerisce l'idea del pari iure con popolo romano e gli altri sono predone sola trones e quindi non gli viene riconosciuta insomma la qualifica di nemici così come insomma ci viene detto da qualche parte mi pare in Plutarco che non era vietato espressamente ma non era guardato con favore il fatto che si celebrasse una vittoria per la guerra contro Spartaco perché quello è un secundum umanum genus ominum genus non ricordo come dice Floro ma insomma è un genere umano di seconda classe e quindi non si può celebrare un trionfo per una guerra vinta contro poi Spartaco sappiamo benissimo che ha tenuto in scacco le truppe di generali romani di primo ordine per anni infliggendo perdite durissime all'esercito romano ma questo non conta conta il fatto che quelli non sono hostess appunto sono latrones predones e quindi contro di loro non 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 si celebra il trionfo perché non è una una guerra vera e propria quindi mi verrebbe da pensare che forse la cultura romana conformemente al suo andamento così alla sua tendenza così pronunciata a trasferire in categorie giuridiche quello che in altre culture magari si manifesta in aspetti diversi della riflessione culturale ha recuperato in qualche modo questa dicotomia alla quale Maurizio Bettini faceva riferimento in questa distinzione fra quelli che noi combattiamo e che in qualche modo i quali riconosciamo la dignità di essere nostri nemici e quelli contro i quali si fanno soltanto operazioni di polizia perché perché insomma non hanno neanche appunto quel minimo decoro che consente di riconoscerli come hostess grazie adesso aveva chiesto la parola il professor Marco Bettalli pessima idea perché mai intervenire dopo Maurizio perché uno fa brutta figura come mai cantare come diceva Sanremo mai cantare dopo i maneschi come i maneschi va beh lo faccio lo stesso era una piccola difesa d'ufficio dei greci perché hanno imparato degli stranieri c'è mi ricordo comunque la conosci a memoria quella fantastica lettera di Filippo V alle Ariseiche è una cosa meravigliosa perché in periodo di guerra formalmente perché insomma i romani erano già nemici e fra l'altro erano da poco perso a Canne per cui insomma non era proprio una situazione e Filippo V dice che bisogna imparare dai romani e questo io lo trovo fantastico e imparare che cosa imparare l'inclusione perché più si include stranieri e anche schiavi perché lui cita anche i schiavi sbagliando leggermente ma insomma perché i figli non venivano non lui ma i figli ma insomma aveva informazioni non precisissime ma insomma ce l'aveva queste informazioni ed è interessante che sia un greco periferico come dicevi di Alessandro Magno che insomma periferico anche Filippo V che insomma è successore non di sangue ma insomma è sul trono dei macedoni ed è insomma non stiamo a parlare come De Mostrene se erano stranieri anche i macedoni oppure se erano greci ma insomma grosso modo greci erano e si rendono perfettamente conto di quanto la loro posizia la rigidità dei greci in questo campo fosse tutto sommato negativa cioè forse funzionasse assai male questo io l'ho sempre trovato strepitoso da questo punto di vista perché è un caso reale che affronta un tema ideologico così enorme rendendosi perfettamente conto in un contesto fra l'altro difficile come era quel momento perché insomma è uno spirito di guerra solo questo l'ho solo accennato ma insomma lo conosci meglio di me e di chiunque altro sì grazie Marco naturalmente non lo conosco fatto meglio di te perché insomma tu sei un sommo specialista di queste cose però sì è vero quello è un caso appunto attestato non semplicemente appunto noto per attraverso intermediazioni varie di di un greco appunto riconosciamolo come tale Pleno Jure che ma su su questo tema dell'inclusione i greci erano molto sensibili perché si trova continuamente per esempio anche in Dionigi di Alicarnasso questa idea secondo la quale una delle ragioni che hanno determinato la finale debacle del mondo greco è stato proprio il fatto di non aver saputo insomma di aver avuto questa concezione così esclusivista in qualche modo della cittadinanza dell'appartenenza culturale e così via e tra l'altro insomma mentre invece i romani hanno vinto grazie anche alla capacità il fatto poi come sottolineava il professor Bettali che questo riconoscimento avvenga in contesto insomma particolare come quello della seconda guerra punica all'indomani di una battaglia disastrosa dalla quale però appunto Filippo notava che i romani stavano riuscendo rapidamente a risollevarsi proprio grazie a questa straordinaria capacità di reintegrare immediatamente eserciti di decine di migliaia di soldati che erano andati perduti e che però potevano in qualche modo essere recuperati abbastanza rapidamente grazie proprio alla possibilità di incrementare la cittadinanza persino per iniziativa privata appunto perché la liberazione degli schiavi non è un fatto pubblico lo diventa soltanto forse tardissima età ma insomma è affidato all'iniziativa dei padroni degli schiavi stessi quindi Roma c'è questa cosa straordinaria per cui un privato può creare un cittadino romano in qualche modo con una decisione che non deve passare dal vaglio diciamo di un'autorità pubblica e questa insomma era un dato che giustamente colpiva particolarmente Filippo Quinto al di là di qualche imprecisione giuridica che gli possiamo tranquillamente perdonare ma magari posso approfittare per insomma del fatto di avere in mano questo simulacro di microfono per dire che esistono però anche tutta una serie di inassimilabili nella cultura romana non è che vanno bene tutti ci sono dei casi in cui i romani si mostrano particolarmente rigidi insomma e sono sembrano mossi da una un pregiudizio etnico particolarmente difficile da scalfire in caso canonico è quello degli ebrei e quindi c'è anche un insomma nel libro ho provato anche a esaminare questo aspetto quello dei barberi che restano comunque tali che non non si riesce in qualche modo che sono separati dal noi da un abisso che anche una cultura tendenzialmente aperta alle incorporazioni come quella romana riesce a superare con difficoltà o non supera affatto sì in effetti agli ebrei è dedicato un capitolo molto interessante del del libro così come c'è anche un capitolo in cui il professor Lentano discute sulla questione se gli antichi erano meno razzisti ad esempio e quindi magari qualcosa su questo potresti dirlo sì lo dico molto volentieri anche perché questo consente di fare un discorso insomma un po' più ampio allora va bene cominciamo cominciamo dal dato dal dato storico poi eventualmente facciamo qualche piccola chiosa diciamo politicamente scorretta allora il dato storico per come la vedo io è questo che se per razzismo noi intendiamo il fatto che un certo gruppo umano possiede determinate caratteristiche intrinseche che derivano ai membri di questo gruppo da nessun'altra ragione se non l'appartenenza al gruppo stesso ecco se noi facciamo propria questa definizione di razzismo eh allora le culture antiche non sono culture razziste non esiste neanche io credo di poter dire un termine in greco e in latino che corrisponda eh precisamente alla nozione eh di razza per come si è andata articolando a partire dalla seconda metà dell'ottocento e fino ad oggi e ora si può discutere eh se l'assenza del termine per definire un concetto implica anche l'assenza del concetto corrispondente eh io tendenzialmente penso di sì ma si potrebbe legittimamente sostenere l'opinione contraria eh però io credo almeno non ho trovato eh nei testi antichi ai quali ho avuto accesso nessuna idea di questo genere di razzismo il che non significa che nel mondo antico non esista il pregiudizio etnico che non esista la stigmatizzazione dell'altro che non esista la creazione di stereotipi fortemente stigmatizzanti appunto nei confronti dell'altro ma non esiste il razzismo e non è un aspetto secondario diciamo così perché eh questo implica che comunque eh a condizioni che magari possono essere più rigide in alcuni contesti culturali in alcuni momenti storici e meno rigidi in altre ma comunque non c'è un abisso diciamo invalicabile eh come quello che il concetto di razza tende a creare perché appunto il razzista conseguente è colui che rifiuta qualsiasi tipo di rapporto di mescolanza con l'appartenente ad una razza diversa dalla propria o quella che viene costruita culturalmente come una razza diversa dalla propria perché evidentemente se il dato è strutturale è genetico diremmo noi anche se questa categoria è ovviamente una categoria moderna eh beh allora non c'è modo di superarlo ecco il fatto di non avere una concezione genetica della razza eh fa sì che le culture antiche in qualche modo da questo punto di vista siano protette da certi esiti eh ai quali purtroppo la storia appunto del novecento ma direi non solo ci ha abituato questo chiosa appunto eh al discorso ehm questo dovrebbe indurre una maggiore cautela in quei cancellatori eh culturali che eh pensano di potersi liberare a colpi di accetta eh di tutta la cultura dalle origini fino all'altro ieri per il fatto che non collima esattamente con i valori di ieri e di oggi e che ritengono che in questi casi la cosa migliore sia quella semplicemente di rifiutare qualsiasi contatto con queste culture eh mi è già capitato di commentare eh un pronunciamento insomma dell'università di Princeton del maggio del duemilaventuno che da questo punto di vista è particolarmente allarmante per come io lo vedo eh in cui non soltanto si stabilisce il principio piuttosto bislacco per cui ci si può laureare in classics senza conoscere le lingue antiche cosa insomma che non penso sarebbe ammessa in qualsiasi altro corso di edificio è pensare di laurearsi in letteratura inglese senza conoscere l'inglese o in letteratura francese senza ma insomma a Princeton ci si potrà laureare in letteratura latina senza conoscere il latino e lo stesso vale per il greco ma soprattutto i documenti del 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 dipartimento di class che si stabiliscono che questo renderà più inclusivo il dipartimento stesso e non c'è dubbio che sia così se noi stabilissimo che per laurearsi in lettere classiche non c'è bisogno di conoscere il latino e il greco sicuramente diventeremo molto più inclusivi perché a quel punto potrebbe laurearsi chiunque quindi questo di per sé non è particolarmente significativo ma soprattutto che in questo modo sarà possibile accogliere studenti che non hanno avuto una precedente esposizione exposure al latino e al greco che è un termine piuttosto forte perché l'esposizione è quella che si ha agli agenti inquinanti alla contaminazione alle radiazioni nucleari e così via quindi insomma parlare del contatto avuto alla scuola superiore al college con il latino e il greco come una questione di esposizione quasi che sia contaminante il contatto con queste culture e far rientrare dalla finestra quel razzismo che si pretendeva di aver cacciato dalla porta grazie Mario ci sono altre domande? avete visto che il professor Lentano non si nega alle domande risponde sempre molto volentieri e molto dettagliatamente va bene comunque a questo punto direi che possiamo chiudere qui questa conversazione questa chiacchierata ricordo appunto il libro di cui abbiamo parlato Mario Lentano straniero casa editrice in in Cibbolet e vi diamo appuntamento quindi al prossimo intervento che è previsto per giovedì 24 marzo pomeriggio saremo più precisi sul sull'orario e manderemo tutte le coordinate per 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 la partecipazione con YouTube magari anche un'aula virtuale e poi ad aprile invece con il professor Marco Bettagli ringraziamo ancora una volta il professor Lentano e arrivederci al prossimo intervento grazie 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 a tutti